Buongiorno da Sicilia 24, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca partendo da Messina. Nello specifico parliamo di una corsa clandestina di cavalli, corsa bloccata dagli agenti della Polizia di Stato che hanno anche denunciato uno dei fantini, il servizio. Maltrattamenti di animali e competizioni non autorizzate sono questi reati per i quali un messinese di 75 anni è stato denunciato alla procura della Repubblica di Messina nei giorni scorsi dai poliziotti delle volanti impegnati nel controllo del territorio. L'uomo, con precedenti di polizia tra cui abbandono e maltrattamenti di animali, è stato nottetempo raggiunto e bloccato nel corso di una gara clandestina di cavalli lungo il Viale Giostra tra due calessi, uno dei quali da lui condotto. A seguire i due calessi, in corsa a folle velocità, uno sciame di ciclomotori impegnati a incitare gli animali con i clacson e subito dileguatisi all'arrivo dei poliziotti. Una volta raggiunto e bloccato, il 75enne invece è stato scortato sino alla stalla in cui veniva custodito l'animale, dove gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato medicinali ad uso veterinario. Il cavallo e relativo calesse invece sono stati sottoposti a sequestro. Sono in corso ulteriori accertamenti volti a stabilire eventuali e ulteriori irregolarità e a identificare gli altri responsabili. Cambiamo decisamente argomento e parliamo adesso di un'operazione di soccorso avvenuta sull'Etna. Alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania è giunta una richiesta di aiuto da parte di due giovani che si trovavano sul versante nord dell'Etna, in prossimità di Piano Provenzana ed erano in difficoltà e disorientati. È intervenuta la squadra dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Lingua Glossa, che dopo aver ricevuto la posizione dei due giovani li ha rintracciati e raggiunti prima che facesse buio in una zona impervia sul sentiero che porta da Monte Pizzillo alla Grotta del Gelo. I due 22enni di Augusta si erano avventurati sulle colate laviche senza una guida esperta e sono stati riaccompagnati al sicuro a valle dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Torniamo adesso sulla tragedia avvenuta ieri a Castelmola. Entriamo nei dettagli di quanto avvenuto. Un 54enne catanese, Alessandro Melfa, è morto a Castelmola nel Messinese nell'impatto al suolo del parapendio con cui stava volando. L'uomo, che aveva iniziato il volo da Monte Venere, si è schiantato in un terreno impervio in Contrada Moli dopo aver urtato i fili elettrici dell'alta tensione. Una sua amica invece, che era con lui, ha riportato diverse fratture ed è stata trasportata in ospedale con un elicottero del 118. Le immagini che vedete si riferiscono proprio a quanto avvenuto ieri a Castelmola. Una vera e propria tragedia, dicevamo, con la caduta di questo parapendio e la morte di un uomo, Alessandro Melfa. Fortunatamente invece la donna che era con lui ha riportato certamente delle ferite gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Da una tragedia a un'altra, torniamo adesso invece su quanto avvenuto a Bagheria, nella Palermitano, dove una 55enne, Teresa Spanò, una maestra elementare, è stata strangolata dalla figlia di 17 anni ed è stata pertanto trovata senza vita nella sua abitazione, come detto, a Bagheria minorenne, che è stata fermata per omicidio volontario. Il provvedimento è stato emesso al termine di un lungo interrogatorio con la 17enne che poi ha confessato il delitto. Secondo quanto emerso dalle indagini, da tempo fra madre e figlia c'erano continui litigi ed è stata la stessa ragazza, al culmine dell'ennesima lite e quindi dopo aver ucciso la madre, a lanciare l'allarme. In un primo momento aveva detto ai soccorritori che la madre si era suicidata ma la sua ricostruzione dei fatti poi è crollata durante l'interrogatorio e come detto la ragazza ha confessato di aver ucciso la madre, questa donna di 55 anni, Teresa Spanò, che è stata uccisa tra l'altro, strangolata. Cambiamo decisamente argomento, adesso ci spostiamo sull'isola di Vulcano per vedere com'è la situazione. Il sindaco di Lipari Riccardo Gullo ha prorogato sino al prossimo 31 marzo il divieto di accesso al cratere La Fossa di Vulcano per via delle anomale emissioni gassose che mettono in pericolo la pubblica incolumità. Lo scorso 21 dicembre ricorderete il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, l'ex governatore siciliano Nello Musumeci, ha deliberato la proroga di sei mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici rilevate nel territorio dell'isola. E adesso parliamo o meglio torniamo a parlare di terremoti. Continua a tremare la terra in Sicilia. Una scossa di terremoto è stata infatti registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma lungo la costa ragusana. Il sisma di magnitudo 2.4 è avvenuto ieri alle 23.31 in mare a una profondità di 4 chilometri. Si tratta dell'ennesima scossa di terremoto di questo inizio di 2023, dopo quelle registrate nel Catanese, nel Messinese e nel Siracusano. Prima di continuare con la cronaca parliamo adesso dei saldi, gli sconti che in Sicilia sono partiti ieri in leggero anticipo rispetto alle altre regioni d'Italia. Sono partiti nell'isola tra speranze ma anche timori per via dell'inflazione. Confcommercio si augura invece che possa esserci una nuova scossa ai consumi in Sicilia. Ma vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio. Con l'inizio dei saldi in Sicilia speriamo di dare un'ulteriore scossa ai consumi nell'isola che per fortuna nei giorni precedenti il Natale hanno fatto registrare un incremento più deciso rispetto a quello degli altri anni, un 5,6% in più che lascia preludere al meglio soprattutto nelle grandi città siciliane. E' quanto afferma il presidente regionale di Confcommercio Sicilia Gianluca Manenti che saluta così l'avvio degli scondi invernali nell'isola fino al 15 marzo 2023. La regione ha anticipato di qualche giorno la tabella di partenza dei saldi rispetto al resto d'Italia dove scatteranno invece dal 5 gennaio. L'avvio dei prezzi ribassati del 2 gennaio farà bene al commercio e ai consumatori, ha invece affermato l'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio. La misura che abbiamo condiviso ha aggiunto in accordo con le associazioni che rappresentano i piccoli commercianti, ha proprio lo scopo di dare l'infa vitale ai negozianti che potranno incassare liquidità fondamentale per la loro sopravvivenza e fornire occasioni di acquisto migliori per gli utenti. Secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale FederConsumatori solo il 24% delle famiglie italiane comprerà qualcosa con una spesa media per famiglia di 178,60 euro in calo del 3% rispetto ai saldi dell'anno scorso. In Sicilia probabilmente queste cifre saranno ancora inferiori visto il potere d'acquisto dei siciliani, notevolmente sotto la media nazionale italiana. I saldi invernali sono iniziati ufficialmente, un inizio però solo formale dal momento che di fatto sono già partiti da giorni in tutta l'isola, sostiene il Codacons. Torniamo a parlare di cronaca con una notizia che arriva da Calatafimi-Segesta. Siamo nel Trapanese dove un 41enne è stato beccato e tratto in arresto dai carabinieri. Era infatti evaso da una comunità dove era distretto ai domiciliari. I carabinieri della stazione di Calatafimi-Segesta hanno arrestato un 41enne pregiudicato palermitano in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte di Appello di Palermo. In particolare l'uomo si trovava sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso una comunità sita nel comune di Calatafimi-Segesta a seguito di pregressi reati contro il patrimonio avvenuti a Palermo nel 2021. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, nonostante il provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, il 41enne si sarebbe allontanato in diverse occasioni dalla comunità senza autorizzazione. L'illecita e reiterata condotta messa in atto dall'uomo e documentata dai militari dell'arma ha determinato l'emissione della più afflittiva misura della custodia in carcere. Al termine delle formalità di rito, pertanto, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani. Viaggiavano a bordo di un'auto che era stata rubata a Siracusa, sono stati beccati a Catania dai carabinieri, due persone sono state denunciate per ricettazione. Il servizio nell'ambito dell'operazione Buon Natale Sicuro, in cui il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto l'intensificazione dei servizi di pattugliamento per garantire sia nel centro cittadino che in periferia la sicurezza di residenti e turisti, i carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno denunciato due catanesi di 29 e 48 anni, entrambi già conosciuti dalle forze dell'ordine poiché responsabili del reato di ricettazione. Al riguardo l'equipaggio della gazzella, nel transitare attraverso il quartiere di Librino, è stato attratto dal modo di procedere di un'auto il cui conducente, alla vista dei militari, ha spinto sull'acceleratore allontanandosi velocemente. Immediato l'inseguimento a sirene spiegate della pattuglia che è riuscita a bloccare il mezzo in viale Librino. Nella circostanza, durante l'ispezione dell'autovettura, i carabinieri hanno subito notato l'assenza delle chiavi nel cruscotto e la manomissione della presa OBD. I sospetti sull'origine furtiva del veicolo sono stati poi confermati dall'accertamento svolto presso la banca dati delle forze di polizia, dove è emerso che questo era stato rubato a Siracusa lo scorso 21 dicembre. Oltre alla denuncia per ricettazione per entrambi, al conducente 48enne è stata altresì contestata l'infrazione per guida senza patente che gli era stata revocata. L'automobile è stata restituita alla legittima proprietaria che, giunta in caserma, ha ringraziato con affetto i carabinieri dichiarando di essere estremamente felice per il ritrovamento della sua macchina, un vero e proprio regalo di Natale. A Sant'Alfio, nel Catanese, un uomo armato di coltello stava inseguendo in strada la propria compagna. Sono però intervenuti i carabinieri che lo hanno tratto in arresto. Tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della stazione di Sant'Alfio hanno arrestato un 51enne pregiudicato del posto per maltrattamenti in famiglia. Al riguardo i militari dell'arma sono stati attivati dalla segnalazione di un residente che aveva riferito di una possibile aggressione in corso da parte di un uomo seminudo che brandendo un coltello stava rincorrendo una donna. Immediato l'intervento nel centro abitato di Sant'Alfio da parte della pattuglia che ha raggiunto il luogo indicato, si è effettivamente imbattuta in un soggetto in abbigliamento intimo e calzini che alla vista della gazzella ha cercato di scappare rifugiandosi all'interno di una vicina abitazione. Il tentativo è stato quanto mai vano poiché l'individuo in evidente stato di ubriachezza dopo qualche metro è stato comunque raggiunto e bloccato dagli operanti. Si è quindi proceduto anche attraverso la testimonianza di residenti e passanti alla ricostruzione dei fatti secondo cui pochi minuti prima il 51enne armato di un grosso coltello da cucina nascosto poi in una intercapedine alla base di un palo della luce aveva inseguito e rincorso per strada la sua attuale convivente cercando di colpirla più volte al viso non riuscendovi solo perché la donna spinta dalla forza della disperazione era riuscita a ripararsi nel suo appartamento. La vittima, una 55enne di origine ucraina, una volta al sicuro ha poi raccontato ai carabinieri che quello era solo uno dei numerosi episodi di cui il compagno di recente si era reso protagonista. Quest'ultimo di fatti era ormai solito aggredirla per cuoterla e maltrattarla in maniera così opprimente che la donna, oramai esausta, aveva preso la decisione di chiudere la relazione e allontanarsi definitivamente dall'abitazione dell'uomo. Proprio questa era stata la causa scatenante dell'ennesimo atto di violenza fermato stavolta dai militari. L'arma bianca usata dall'aggressore, successivamente recuperata dai carabinieri, un coltello della lunghezza complessiva di 33 centimetri è stata sequestrata. Il 51enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto disponendo per lui i domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Sorpresi a rubare all'interno di alcune autovetture, due soggetti sono stati arrestati a Siracusa. Nella notte di Capodanno, i carabinieri del nucleo radiomobile di Siracusa, in via Elorina, nei pressi di un locale dove si stavano svolgendo i festeggiamenti per il nuovo anno, hanno tratto in arresto per furto su autovetture un 32enne originario di Avola e un 44enne di Siracusa, entrambi con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. I due soggetti sono stati sorpresi mentre rompevano con delle pietre i finestrini delle auto posteggiate nei pressi dell'attività di intrattenimento e trafugavano soldi e oggetti. La refurtiva, costituita da borse, portafogli, occhiali da sole, cappotti e soldi, è stata restituita ai proprietari dei mezzi avvisati dai carabinieri intervenuti. I due soggetti sono stati arrestati per furto aggravato e danneggiamento e sottoposti agli arresti domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria. È tutto, ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24. Grazie a tutti.